iphone è disabilitato perché abbiamo inserito troppe volte il codice di sblocco sicuramente vedremo questa schermata relativa al blocco di iphone che ci dice di connettere il telefono al computer e quindi ad itunes in questo tutorial vedremo tre metodi per sbloccare il nostro iphone itunes l'uso di for you key e l'applicazione dov'è di apple cominciamo quindi con il metodo 1 ripristinare iphone tramite itunes colleghiamo iphone e mettiamo di recupero tutti i modelli di iphone iphone 13 intendo iphone 13 intendo hanno la stessa procedura per essere messi in modalità di recupero prima clicchiamo velocemente il tasto del volume su poi clicchiamo il tasto del volume giù quindi premiamo il tasto laterale e lo teniamo premuto finché iphone non si spegne e si riavvia in modalità di recupero ora itunes ci chiederà se vogliamo aggiornare iphone oppure ripristinarlo selezioniamo ripristina itunes inizierà dunque lo scaricamento del software per poterlo installare su iphone e ripristinarlo se hai un backup salvato sul pc o su icloud allora potrai ripristinare il tuo iphone con i suoi contenuti successivamente ora l'iphone è ripristinato assicurati di avere la password del tuo indirizzo icloud quindi procedi con la configurazione delle impostazioni di base dell'iphone il secondo metodo è usare for you key clicca su inizia a sbloccare clicca su continua ora connetti il telefono al tuo pc o al tuo mac quindi segui le istruzioni per mettere iphone in modalità di recupero for you key cercherà il firmware di iphone corrispondente e lo scaricherà iniziamo quindi il download ci vorrà un po di tempo una volta terminato il download del nostro iphone inizierà lo sblocco del dispositivo lasciate che il programma inizi la procedura di sblocco e prosegua cercate di non toccare iphone e di non scollegarlo dal computer una volta terminato avremo iphone a disposizione per essere riconfigurato ed eventualmente ripristinato con un backup che avevamo effettuato precedentemente passiamo al metodo 3 ripristinare iphone con dove il mio iphone dove il mio iphone è un'applicazione di apple che è presente sia online sul sito e cloud oppure attraverso l'ecosistema mac quindi sia mac os sia iphone apriamo l'applicazione dove scegliamo la scheda dispositivi e scorriamo all'interno del menu per selezionare il nostro iphone 13 quindi scorriamo in su e selezioniamo la voce ripristina dispositivo a questo punto inseriamo l'indirizzo e la password del nostro account apple id quindi procediamo alla formattazione del telefono ovviamente il telefono perderà tutti i suoi dati quindi dovremo anche qui riconfigurarlo con le impostazioni e poi effettuare eventualmente il backup se presente nell'icloud o su itunes sul sito che trovate in descrizione trovate tutte le informazioni relative al programma tenorshare for you key potete scaricarlo in versione di prova o altrimenti acquistarlo ci vediamo nel prossimo video ciao